Grande successo al castello di Donna Fugata, cornice perfetta per la prima edizione dello spettacolo di danza Le Stelle del Barocco, ideato e organizzato dal CSA for Dance di Ragusa. Ha preso il via così il progetto innovativo nato grazie alla collaborazione tra il CSA for Dance di Ragusa, la Scuola di Danza Il Cigno di Gela e il Teatro Nazionale di Belgrado e finalizzato ad offrire un'offerta formativa altamente qualificante al mondo della danza eblea, favorendo le coproduzioni tra artisti locali e internazionali. A presentare la serata Daniela Mazzone, direttore artistico e il presidente provinciale del CSA Ragusa, Antonella Caramia. È la prima edizione di CSA for Dance, una grande scommessa, una grande sfida che nasce dalla collaborazione tra il CSA for Dance guidata da Liliana Saranovic, la Scuola di Danza Il Cigno di Gela e altre collaborazioni. Abbracciamo questa sera un po' diversi generi di danza, la danza orientale, la disco dance, la danza classica, moderna, contemporanea. È un progetto innovativo perché nasce dalla collaborazione con il Teatro Nazionale di Belgrado che appunto ci fornirà durante tutto l'anno la preparazione, la competenza, la professionalità dell'Etoile Ejovica Begojev e Etoile, quindi primo ballerino del Teatro Nazionale di Belgrado. Quindi è questa l'innovazione che vuole portare CSA for Dance in modo tale che le nostre allieve, le nostre potenziali ballerine abbiano più opportunità, che sperimentano le proprie capacità, i propri percorsi appunto durante tutto l'anno confrontandosi anche con professionisti e guidati da professionisti in modo tale che insomma abbiano più possibilità. Noi vogliamo coltivare i nostri talenti. È un progetto bellissimo che sta già andando avanti con tante proposte, idee insomma in cantiere per la seconda edizione. Abbiamo scelto questa bellissima location, il Castello di Donna Fugata, a me particolarmente insomma mi piace molto, mi piace molto perché vogliamo anche promuovere il nostro territorio, quindi creare anche attrattività, ampliare l'offerta non solo formativa per la nostra scuola di danza ma anche proprio del nostro territorio, portare le bellezze artistiche e architettoniche, insomma turistiche e ad ampio raggio. Quindi felicissima, soddisfatta, sono stati duri mesi di lavoro però sono davvero davvero felice. Naturalmente dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale per averci supportato nell'organizzazione di questo magnifico spettacolo. I corsi a cui è possibile iscriversi si svolgeranno presso il Vitality Club di Ragusa e vedranno Liliana Saranovic, insegnante di CSI Fordenza, affiancata da istruttori altamente qualificati e stelle della danza nazionale. È un progetto che è stato innovato da Antonella Caramia, mi ha chiesto se voglio collaborare, io con tutto il cuore glielo ho detto immediatamente sì, perché vogliamo portare avanti per gli anni e organizzare sempre più le cose avanzate con i diversi grandi ballerini che potrebbero anche crescere tutte le scuole che esistono di danza, di vedere come si può mischiare tra professionisti e dilettanti. Grazie a tutti. 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 l'iniziativa Numerosi Partner. Un'iniziativa che vuole valorizzare quello che è non solo l'arte, la danza, ma anche il patrimonio culturale, quindi le aziende, anche le imprese, molto volentieri si stanno spendendo per questo. Sì, noi con la nostra attività di trasporto diamo valore a quello che è il territorio ragusano e abbiamo anche una sede di staccata su a Vicenza dove facciamo attività di agenzie e trasporti. Artestyle è un salone uomo-donna che crea tagli di tendenza e colori-moda e anche servizi personalizzati come montaggio e station. Il nostro compito è avverare i vostri desideri. Anche noi presenti all'evento Le Stelle del Barocco, promosso dalla CSI. Siamo del centro copigrafico di Antonio Tringali e ci occupiamo di tutto ciò che è la creatività e la stampa, tipo stampa digitale, fotocopie, sia colori che in bianco e nero, rilegature, plastificazioni, acquisizioni piccole e grande formato, stampe su carta fotografica e tela, allestimento di stand per eventi, vetrofanie grande formato, poster flessibili e rigidi e targhenplex. Ci trovate in via Sacro Cuore numero 2 a Ragusa e anche noi oggi facciamo parte dell'evento Le Stelle del Barocco, promosso dal CSI. I servizi che offriamo sono quelli classici delle agenzie e poi sono viaggi organizzati. In particolare io mi sono specializzato negli anni di esperienza passata proprio nell'organizzazione di viaggi specifici, parliamo medio, lungo raggio ci rivolgiamo a coloro che hanno bisogno invece di un'assistenza, di una consulenza turistica di un certo livello. Poi ci occupiamo di gruppi, in particolare negli ultimi anni ci occupiamo anche un po' di incoming. Ci siamo anche noi alle Stelle del Barocco, noi siamo in via della Costituzione a Ragusa 112 offriamo servizi per gli animali domestici con la nostra tua vettatura, servizi a domicilio e trattiamo alimenti e accessori delle migliori marche. Grazie a tutti.